Un milione di euro ciascuno a valere sul POFESR per i due progetti di valorizzazione del territorio Marateota e dell'Appenino Lucano. Si tratta della realizzazione di un impianto di risalita dal parcheggio Zona Madonna degli Olivi alla piazzale Santuario San Biagio, utile a raggiungere più agevolmente un'area di notevole pregio ambientale o cieche religioso, e della produzione di uno spettacolo dal titolo La Signora del Lago, nel comune di Nemoli, nel cuore del Parco Nazionale dell'Appenino Lucano, che accolga da giugno a settembre 1.500 spettatori al giorno. Sono questi gli interventi previsti nell'ambito dell'accordo integrativo all'accordo di programma sottoscritto tra Regione Basilicata e Piot-Maratea-Terramare. I nuovi interventi, adesso di Filippo, renderanno più fruibile un percorso tra i più suggestivi della Regione, creando un nuovo attrattore. Per l'assessore Pittella si tratta di opere che potranno avere effetti positivi sulle attività economiche dell'area.